Con Giulio Trevisan, patron del Chieti, mi diceva a microfoni spenti, ho scaricato un po' di quella tensione che fisicamente distrugge, non solo mentalmente. Ormai siamo allenati, quindi sotto questo punto di vista cerchiamo di allenarci e la domenica ci serve di allenamento. La tensione è una partita importante, squadra importante, un avversario che ha fatto molto bene contro noi. Noi forse siamo stati un po' superiori nella prima parte della partita, loro sicuramente sono venuti fuori meglio nel secondo tempo. Sono assolutamente tranquillo, è un punto che portiamo a casa nel nostro percorso, è un campionato difficilissimo. La prova di oggi testimonia che se l'Avezzano fosse partito un po' prima con questi livelli probabilmente avrebbe anche detto la sua nel corso del campionato. E quindi diciamo bene così. Trevisan addirittura Torti che ha preso la conferma in diretta davanti alle nostre telecamere dopo la gara disputata. Questo però vuol dire che il campionato ha un valore importante perché in molti all'inizio dicevano ma è un mini torneo, un gironcino, conta poco, non conta niente. Però la gara di oggi ha dimostrato che per vincerlo c'è bisogno di mettere tutte le forze in campo. Ma vabbè Tonino è un mio vecchio amico quindi questa notizia che ho sentito da Gianni Paris in diretta è una cosa che mi può solo far piacere perché è un allenatore di grande professionalità, serietà. Quindi diciamo che dispiace, il risultato però va riconosciuto al merito a una squadra e a un mister di assoluto valore. Quindi penso che il dispiacere è un po' lenito dalla stima e la considerazione che io nutro nei confronti di Tonino Torti. Però insomma va bene così, è un risultato che alla fine credo che sia giusto, insomma non c'è tanto da discutere. Quindi mi fa piacere anche perché credo che lui sia un allenatore che possa far molto bene in un campionato lungo. Con una squadra come quella che ho visto oggi, credo che l'Avezzano, non so cosa succederà all'Aquila, però credo che l'Avezzano abbia pochi avversari l'anno prossimo se dovesse rimanere in questa categoria. Prima parlava di percorsi, il percorso del Chiedi non può essere interrotto da questo pari perché la storia del campionato ha detto che la squadra forse più attrezzata è sicuramente quella che ha messo subito sul pezzo dal primo secondo della prima gara la convinzione giusta, presidente. Ma quali potrebbero essere i correttivi per ambire a qualcosa di diverso nella futura Serie D? Allora, prima la Serie D va conquistata, quindi parlare... abbiamo visto che la città... Però il margine è ampio ugualmente, dottore? Sì, sì, no, il margine è sicuramente ampio, però i risultati vanno prima portati a casa e poi uno ci pensa. È chiaro che l'impianto della... arrivederci... L'impianto della squadra, al di là, ripeto, la prestazione di oggi che magari è stata un po' al di sotto di quelle che erano le aspettative, però è un impianto importante, sono giocatori che per anni hanno fatto la Serie D, quindi sotto questo punto di vista io penso che questa è una squadra già pronta per una categoria superiore. È chiaro che in una categoria superiore le partite sono tutte come quelle di oggi, cioè nel senso che non hai partite dove c'è un divario significativo con gli avversari, noi l'abbiamo visto l'anno scorso e penso che comunque questa soprattutto abbia la caratteristica di aver formato quest'anno in questo breve periodo un gruppo molto ben amalgamato e che si sostiene poi con dei fuori quota sicuramente di valore che posso insomma dire la loro in un campione di categoria superiore, però ripeto sempre, prima di poter parlare di un progetto, un programma di categoria superiore, la categoria va comunque guadagnata e noi ad oggi non l'abbiamo guadagnata, quando la guadagneremo, se così dovrà essere, penseremo a un impianto insomma con degli innesti per poter fare un campionato diciamo senza grandi patemi. Va detto pure, tornando un attimo all'anno scorso, che noi l'anno scorso non avevamo l'Angelini, non abbiamo giocato una partita a l'Angelini, Non abbiamo avuto un campo allenamento per le note vicissitudini con il Comunice Pagatti, tra l'altro ancora oggi quel campo è chiuso, diciamo sono stati fatti anche dei disastri che noi abbiamo dovuto subire in qualche maniera e poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché insomma campi chiusi da due anni, cose insomma che poi penso che riguarderanno soprattutto la giustizia amministrativa, cose insomma di... Che non fanno parte del calcio giocato, diciamo così. Che non fanno parte del calcio giocato e quindi noi insomma che ci allenavamo abbiamo cambiato tanti campi e questo purtroppo è stato anche nella prima parte della stagione, quindi qualcuno dice che la squadra della seconda parte era superiore, diciamo la squadra della seconda parte della stagione è stata fatta ad hoc per questo tipo di campionato e la squadra della prima parte aveva delle caratteristiche diverse, comunque noi a dicembre saremmo in ogni caso rinforzati sul mercato. Trevisan, l'ultima gliela voglio fare su più che una domanda e forse una conferma, un dato oggettivo e inconfutabile, l'amore dei teatini per questa formazione, perché anche oggi nella prima occasione è utile la riapertura dell'impianto in massa presenti a Tifare Chieti. Sì, sì, vabbè, ma diciamo che noi veniamo fuori da un periodo certamente molto particolare, perché attività economiche chiuse per tanto tempo, lockdown, credo che questa cosa abbia amplificato anche l'attaccamento alla squadra, è stato uno spettacolo bellissimo, diciamo mi dispiace non poter festeggiare oggi con i tifosi qui, però questo non significa che faremo di tutto per farlo e ringrazio chiaramente tutti quelli, famiglie intere con ragazzi, bambini che hanno portato figli e nipoti allo stadio e questo è uno spettacolo bellissimo e quindi va dato merito a tutti i tifosi, c'era il sindaco, il vice sindaco, l'assessore allo sport, quindi è stato vissuto come un evento... E anche imprenditori che hanno confermato l'interesse a dare una mano a questa società. Io sul discorso del dare una mano diciamo che se c'è qualcuno che vuole dare una mano è sempre ben accetto. Il telefono è sempre acceso, Trevis? Sì, ma è qualche anno che vivo questa situazione, io penso una cosa, che le persone sono sempre ben accette perché se credono nel progetto che uno sta portando avanti sono sempre ben volute all'interno della società. È chiaro pure che in un momento così difficile tutto il peso, l'onere economico è rimasto sulle spalle mie e del presidente Mergiotti e abbiamo cercato di fare un lavoro che poi portasse a dei risultati positivi perché sponsor in questo momento è un po' difficile trovarne e quindi è stato un progetto totalmente finanziato da me e dal presidente e quindi i risultati in questo senso sono ancora più desiderati perché quando ogni centesimo che metti in tua società esce le tue tasche e oggi dall'incasso dei nostri tifosi che ringrazio ancora è chiaro che poi i risultati li devi portare a casa.